Dirigenti scolastici e sindaci del Terramano si sono incontrati questo pomeriggio a Teramo per decidere sul futuro prossimo di scuole e quantificare i danni sul territorio. Appuntamenti cruciali voluti dal presidente della provincia Renzo di Sabatino, che in apertura dei lavori ha chiesto a tutti i 40 primi cittadini presenti nella sala consigliare di Via Milli di rendere noti al più presto i dati sui disastri prodotti dal terremoto del 30 ottobre nei singoli comuni. Il fine sarà quello di redigere un report unico da consegnare al governo per richiedere l'ingresso nel cratere di Teramo, un territorio oggi drammaticamente danneggiato dal sisma. Cos'è successo appena Sant'Andrea? Abbiamo avuto parecchi danni, sia l'abitazione civile che le strutture chiese. Fortunatamente le scuole sono risultate tutte agibili. Purtroppo abbiamo 18 famiglie evacuate e a fronte di questo abbiamo organizzato dei centri di accoglienza sia nel capoluogo che nelle frazioni. Quanti danni a Castelli? Buona parte del centro storico ho dovuto con specifica ordinanza e ribirlo al transito sia veicolare che pedonale perché sono pericoli di crolli, sono già stati crolli ma c'è ulteriore pericolo. Oltre agli edifici che erano inagibili già al 2009 sono nuove inagibilità quindi abbiamo per il momento 15 famiglie sfollate, diciamo all'incirca una trentina di persone che abbiamo dovuto in questo momento sistemare le attività ricettive di Castelli e adesso vedremo come poi successivamente destinarle. Castellalto è retto bene? Sì, non abbiamo grossi danni, abbiamo qualche cosa nei centri storici specificamente su Castelbasso abbiamo messo in sicurezza qualche crollo, qualche lesione alle mure di cinta, qualche abitazione privata. Il secondo incontro che si è tenuto oggi in provincia con i dirigenti scolastici teramani ha evidenziato due criticità importanti. La scuola maggiormente colpita risulta essere l'Istituto Pascal di Teramo che ha bisogno urgentemente di 28 aule più gli uffici e il convitto delfico che necessita di 5 aule e la sistemazione di 40 convittori interni. Il presidente di Sabatino ha chiesto a tutti i sindaci di riaprire le scuole lunedì prossimo per permettere ulteriori verifiche. Per il comune di Teramo, Brucchi ha aderito immediatamente.